Valottaggio per la carica di sindaco a vittoria, contendersi la poltrona di primo cittadino saranno Francesco Aielle e Giovanni Moscato. Calo dell'affluenza rispetto al 2011 del 5%, a vittoria si tornerà a votare il 19 giugno. E il Movimento 5 Stelle è il partito più votato a vittoria con 3863 voti pari al 13,81%. Il Partito Democratico e Espressione del sindaco uscente Giuseppe Nicosia ha invece totalizzato 2.297 voti, la percentuale 8,21%. La polizia di Ragusa ha denunciato due giovani per spaccio di sostanze stupefacenti, due sono stati sorpresi nella villa comunale di Via Zantle. L'attività di contrasto al fenomeno della droga in territorio ibleo continua. Record di ascolti per la diretta di San Giorgia di Ibla, promossa dal gruppo editoriale RVM, una lunga diretta condotta da Salvo La Rosa, Marco Scavino e Viviana Sammito, che ha raccontato tutte le fasi della festa del patrono ragusano. Buon pomeriggio telespettatori di MDG, ben trovati al primo appuntamento con l'informazione su video mediterraneo e dunque l'apertura, un'ampia pagina di apertura sarà dedicata alle amministrative 2016. In provincia di Ragusa solo nel comune di Vittoria si è andato alle urne, in provincia dunque si andrà a Vittoria al ballottaggio. I due candidati sindaco al ballottaggio sono Giovanni Moscato e Francesco Aiello, dunque altri 15 giorni di campagna elettorale per i due candidati. Alle 23 invece, per quanto riguarda l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera alla chiusura dunque dei seggi a Vittoria, l'affluenza era del 64,04%, ovvero il 5% in meno rispetto alle ultime amministrative, quelle del 2011, dove si era registrata invece un'affluenza del 69,86%. Dunque facciamo il punto della situazione nel nostro primo servizio che riguarda le amministrative a Vittoria. Vediamo questo servizio. Sono stati 29 i comuni siciliani chiamati alle urne per le amministrative 2016 per eleggere il nuovo sindaco e il Consiglio Comunale. L'affluenza a livello regionale alle 23 di ieri sera è stata del 65,32%. Non si è votato in nessun capoluogo di provincia. Alle 23, subito dopo la chiusura delle urne, sono cominciate le operazioni di scrutinio. In provincia di Ragusa si è votato solo nel comune di Vittoria. Sono stati 9 i candidati a sindaco. Hanno superato il primo turno Giovanni Moscato e Francesco Aiello, che andranno dunque al ballottaggio del prossimo 19 giugno, quando sarà decretato il sindaco di Vittoria. Giovanni Moscato, appoggiato da sviluppo Ibleo, riavvia Vittoria, se la Amila cambia e spazio aperto, ha totalizzato 9.434 voti, con una percentuale del 35,62%. Francesco Aiello, 7.134 voti, con Sicilia Futura, Lista Spiga, Partito Socialista Italiano, insieme per il futuro di Vittoria, Quadrifoglio, con una percentuale del 26,93%. A seguire poi ci sono Annina Carmelo Giordanella, del Movimento 5 Stelle, con 4.096 voti, pari al 15,46%. Lisa Pisani, Nuove Idee, Partito Democratico e dell'EP16, per Vittoria, 2.454 voti, pari al 9,26%. Vincenzo Statelli, Progetto e Impresa Statelli Sindaco, 1.696 voti, pari al 6,40%. Arcangelo Mazza, si può fare Lista Civica, Forza Vittoria e Patto per Vittoria Scoglitti, 1.003 voti, per una percentuale del 3,79%. Rosario Rinaudo, Movimento per i Diritti Agricoli, con 236 voti, e lo 0,91%. Irene Nicosia, alternativa per Vittoria, Irene Nicosia Sindaco, con 238 voti, per una percentuale dello 0,90%. E infine Riccardo Terranova, Terranova Sindaco, con 214 voti, con lo 0,81%. Per quanto riguarda i voti di lista, quella che ha avuto più preferenze è stato il Movimento 5 Stelle, con 3.815 voti, pari al 13,78%. Poi segue Selami, la Cambi, con 3.744 voti, pari al 13,52%. Lista Spiga, con 2.920, pari al 10,55%. Riavvia Vittoria, con 2.915 voti, pari al 10,53%. Il Partito Democratico, con 2.276 voti, 8,22%. Nuove Idee, con 1.755 voti, pari al 6,34%. Movimento Sviluppo Ibleo, 1.566 voti, 5,94%. Progetto Impresa, con 1.368 voti, pari al 4,94%. Partito Socialista Italiano, 1.113, 4,02%. Quadrifoglio, con 1.087, per una percentuale del 3,93%. Spazio Aperto, con 1.084 voti, 3,92%. Patto per Vittoria Scoglitti, 1.072, 3,87%. Sicilia Futura, 1.062, 3,84%. Forza Vittoria, 444, 1,60%. LP16, 434, 1,57%. Movimento per i diritti agricoli, 343, 1,24%. Terranova Sindaco, 304 voti, 1,10%. Alternativa Vittoria, 271 voti, 0,98%. E si può fare 70 voti, 0,25%. Bene, dunque, fin qui, lo avete visto, erano 67 su 69 le sezioni scrutinate. Intanto c'è un aggiornamento. Si aggiunge un'altra sezione, 68 su 69. Ovviamente i dati che vediamo in questo momento ci arrivano dai dati ufficiali dal Comune di Vittoria. Dunque abbiamo, per quanto riguarda i sindaci, Giordanella Nina Carmelo, 4.157, Terranova Riccardo, 214, Francesco Aiello, 7.211, Nicosia Irene, 220, Giovanni Moscato, 9.541, Arcangelo Mazza, 1.009, Rosario Rinaudo, 239, Vincenzo Statelli, 1.701, Lisa Pisani, 2.482. Dunque, ricordiamo, sono 68 su 69 le sezioni scrutinate fino adesso. Anche per quanto riguarda i voti di lista, abbiamo 68 su 69 sezioni. Abbiamo Movimento Politico Sviluppo Ebleo, 1.615, Movimento per i diritti agricoli, 344, Nuove Dei, 1.766, L.P. 16, 436, Terranova Sindaco, 306, Spazio Aperto, 1.107, Alternativa Vittoria, 276, Si può fare 70, Movimento 5 Stelle, 3.863, Progetto Impresa, 1.373, Partito Democratico, 2.297, Sicilia Futura, 1.072, Riavvia Vittoria, 2.945, Patto per Vittoria Scoglitti, 1.077, Lista Spiga, 2.949, Selami La Cambi, 3.805, Forza Vittoria, 4.45, Partito Socialista Italiano, 1.126, Quadrifoglio, 1.109. Dunque qui, 68 sezioni su 69, sono i dati che ci arrivano dal Comune di Vittoria, ovviamente nel corso del telegiornale, se ci dovesse essere l'ultima sezione scrutinata, quindi 69 su 69, ovviamente vi daremo anche in questo caso l'aggiornamento. domanda non è finita qui, perché abbiamo detto al ballottaggio ci vanno Francesco Aiello e Giovanni Moscato, sin dalle prime ore i due sono già pronti per ricominciare la campagna elettorale e cercare di conquistare anche fette di elettorato che in questa prima tornata non hanno votato per loro. Sentiamoli dunque al microfono di Carmela Minardo. Lei allora ha deciso che non farà apparentamenti, ha già designato i suoi assessori, in che modo cercherà di andare a raggiungere gli elettori che nel primo turno si sono espressi in modo diverso rispetto appunto alla sua preferenza? Beh, intanto bisogna dire che questa scelta di trasparenza è stata una scelta vincente, l'avevamo detto, siamo stati gli unici a farlo e la città ha risposto bene perché la città vuole trasparenza, vuole chiarezza, vuole limpidità, vuole coraggio. Quello che noi faremo è molto semplice, noi continueremo a parlare con tutti i vittoriesi che hanno votato a primo turno, che non hanno votato, che hanno votato altri partiti. Il dato è chiaro, il 70% dei cittadini vittoriesi hanno votato un partito antisistema, cioè non ha votato né Aiello né il PD. Quindi sotto questo punto di vista io mi rivolgerò a loro, ma mi rivolgerò anche a tutti coloro che hanno intenzione di cambiare questa città dopo 40 anni di potere, sempre delle stesse identiche persone, sempre di quelle persone che hanno creato una cappa di potere che adesso va debellata una volta per tutte. È una partita diversa, è chiaro che adesso il voto è ancora più radicalizzato tra il vecchio e il nuovo, tra chi non ha mai amministrato e chi lo fa da 40 anni, fra chi vuole l'IGP e chi non lo vuole, fra chi vuole un mercato moderno e chi lo vuole chiudere, fra chi vuole far ripartire i quartieri e chi no, fra chi ha un sogno e fra chi ha una vendetta. Il voto è assolutamente radicalizzato tra due mondi assolutamente diversi. L'unica cosa che ci ha comune è la passione per la politica. Per il resto siamo due mondi diversi, due persone diversi, due ambienti diversi e penso che la gente lo abbia capito. Non c'è nessun punto di contatto fra me e lui, anzi rappresentiamo esattamente il contrario l'uno dell'altro. Ovviamente il ballottaggio è tutta un'altra partita. Voi, per quanto riguarda gli apparentamenti, lei cosa pensa di fare e a chi si rivolgerà? Io innanzitutto parto dal programma che non è una carta di bronzo, è un progetto e quindi come tale è suscettibile di essere discusso. Mi confronterò quindi. Il confronto non mancherà nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Quello su cui invece ho forte perplessità è l'idea di accordi politici su questo o su quell'altro. Credo di dover chiamare tutte le forze disponibili ad una condivisione, anche critica, di questo programma e da lì ripartiamo insieme per ricostruire i gruppi dirigenti che debbano amministrare Vittoria, debbano amministrare la cosa pubblica a Vittoria, dare le risposte ai cittadini. Lava il timore però è rivolto al di elettori di qualunque colore, di qualunque tipo, elettori del Partito Democratico, elettori della destra, della sinistra, giovani, uomini e donne di Vittoria. Questo rimane l'asse strategico del mio comportamento, parlare con la città ma anche una prudenza sui rapporti politici che sono in questa fase necessari. Dunque fin qui due candidati al ballottaggio, Giovanni Moscato e Francesco Aiello, ma è tempo di disamina in casa PD alla luce dei risultati di queste amministrative perché il Partito Democratico esce sconfitto dalle elezioni e cede anche la leadership come primo partito a favore dei pentastellati. Il Movimento 5 Stelle infatti è il partito più votato. Sentiamo ancora una volta Carmela Minardo. Dopo due mandati consecutivi del proprio sindaco uscente, il Partito Democratico a Vittoria va incontro ad una sconfitta di proporzioni impietose. Il suo candidato Lisa Pisani è solo quarto, mentre in Consiglio Comunale la lista con insegne PD arriva quinta. Numeri che non lasciano spazio a giustificazioni né minimizzazioni. Bocciata l'amministrazione uscente o è stata ritenuta poco convincente la proposta avanzata dal PD in continuità con la giunta Nicosia o tutti e due i fattori insieme? Ma guardi, non voglio io evadere la domanda o raggirarla. Ripeto, non sta a me. Io, come dice lei, c'è stata una campagna elettorale dura. Tutti contro uno, questo è sicuro. Perché proprio venivamo da un dieci anni, la città ha detto che voleva il cambiamento. Nella compagine di centro-sinistra, come ha detto bene lei, pescavano più di una persona, più di Aiello. Pescava Mazza, Pescava Aiello, Pescava Nicosia, pescavano altre parti del 5 Stelle. Ovviamente nel centro-destra c'era uno, o parte, o più di uno, ma è chiaro che la competizione era più dura a sinistra. Ma questo non vuole essere una foglia di figo della nostra sconfitta. Noi dobbiamo riflettere su ciò che non ha funzionato. Per il pronunciamento, ripeto, la sottolineo io, anzitempo in faccia all'ennesima domanda, per questo noi ci affidiamo all'analisi di tutto il Partito Democratico. Ora, fatto nei prossimi giorni, saremo noi stessi a darne comunicazione alla città e alla stampa. Vittoria vi ha premiato come lista perché siete il primo partito a Palazzo Iacono, ma non ha fatto lo stesso per quanto riguarda il candidato a sindaco. Come può essere letto questo dato? Noi abbiamo avuto un po' di voti persi perché questo meccanismo della doppia croce ci ha penalizzato. Molti hanno votato il simbolo convinti che bastasse. Ecco, come voto di fiducia, di stima. Probabilmente avremmo potuto spiegare meglio che era necessario mettere due croce e non bastava soltanto quella al simbolo. Ciò detto, comunque siamo contenti del risultato che abbiamo avuto. Adesso il ballottaggio. Darete delle indicazioni al vostro elettorato per quanto riguarda il secondo turno? Ma il movimento non si allea, non si apparenta, quindi ognuno sarà libero di fare le proprie valutazioni. Non daremo indicazioni. Dunque, fin qui abbiamo sentito anche le reazioni ai voti del Partito Democratico e quelle al Movimento 5 Stelle che risulta dunque essere il partito più votato in questa tornata elettorale a Vittoria. Adesso diamo voce ai cittadini. In giro Carmela Minardo è andata un po' a capire cosa ne pensano i cittadini di queste elezioni. Vittoria ha deciso. Al ballottaggio andranno Giovanni Moscato appoggiato da una coalizione di centrodestra e Francesco Aiello che dal canto suo vanta una lunga esperienza amministrativa con i suoi sei mandati di primo cittadino. La città invece ha bocciato quello che rappresentava la continuità amministrativa uscente. Io penso che si aspettava dei due candidati con Aiello e Moscato che erano i due papabili che potevano arrivare al ballottaggio e ora si attende il 19 per il ballottaggio sperando in un cambiamento della città. Cosa ne pensa comunque del fatto che vanno al ballottaggio Moscato e Aiello? Sarà una cosa positiva di andare in ballottaggio per verificare il futuro sindaco. Era un verdetto che ci aspettavamo a Vittorio perché incominciando da me ho votato per Forcatella Pesano per me è stata l'unica scelta che Vittorio poteva fare. Interrompere un po' rispetto alla passata amministrazione. Parliamo della passata amministrazione perché sono stati capaci tutti i due fratelli di rovinare il paese di Vittorio e l'agricoltura. Il ballottaggio come andrà? Chi potrebbe vincere? Chi potrebbe spuntarla? Penzo Moscato che è un ragazzo, è giovane Tutto là. Io chiaramente è un mio giudizio personale da quello che ho visto mi pare che gli altri candidati non fossero all'altezza sicuramente non erano all'altezza quindi rimanevano loro due primo turno nessuno dei due e quindi morale della faula. Una vittoria comunque che vuole cambiare? Penso di sì penso di sì però vuole cambiare con Aiello non so fino a che punto E adesso cambiamo dunque argomento parliamo di cronaca sono stati sorpresi nella villa comunale di via Zancla a Ragusa due giovani del posto deferiti all'autorità giudiziaria dalla polizia di Stato per spaccio di sostanze stupefacenti sentiamo Due giovani sono stati bloccati dalla polizia di Stato nella villa comunale in via Zancla a Ragusa trovati con ascisce e cocaina i due sono stati deferiti all'autorità giudiziaria l'attività di prevenzione e contrasto allo spaccio è stata rivolta soprattutto tra i giovani e nelle piazze principali di aggregazione giovanile i due sono stati notati con fare sospetto mentre sostavano vicino ad una panchina e che alla vista dei poliziotti hanno cercato di defilarsi immediatamente bloccati i due hanno da subito mostrato evidenti segni di agitazione che ha portato gli agenti ad approfondire controlli con una perquisizione sul posto il primo ragazzo di 22 anni aveva occultato all'interno dei pantaloni quattro stecche di hashish confezionate separatamente ognuna del peso di un grammo il secondo di 20 anni è stato sorpreso in possesso di altre due stecche di hashish e di una bustina termosaldata contenente una dose di cocaina la perquisizione è anche proseguita a casa dei due ragazzi dove la polizia ha recuperato e sequestrato anche un bilancino elettronico di precisione ed un grinder strumenti utilizzati per confezionare per il successivo smercio singole dosi di sostanza stupefacente i due ragusani sono stati deferiti all'autorità giudiziaria con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti andiamo a modiche consiglieri del PD Spadaro Ceruto e Castello Colombo e Caruso hanno presentato un'interrogazione sull'asse viario del polo commerciale con particolare riferimento alla realizzazione della rotatoria dinanzi al supermercato le licumie un'opera che la città aspetta e che ormai è necessaria sottolineano i consiglieri non si comprende l'inerzia dell'amministrazione comunale di Modica mostrata nel trattare l'argomento e le relative pratiche dell'asse viario del polo commerciale e questo è il senso di una interrogazione presentata dal gruppo consigliare del PD nella nota infatti i consiglieri di opposizione evidenziano come per la realizzazione della rotatoria dinanzi al supermercato le licumie mancherebbe un ultimo passaggio di tipo burocratico ma che nonostante tutto ancora non sia stato espletato l'argomento come ricorderete è stato più volte affrontato dalla nostra redazione e riguarda lo stato della ex strada statale 115 arteria che costeggia il quartiere Sorda e che ad un certo punto del suo percorso va ad intersecare con via Cava Gucciardo Pirato i consiglieri fanno riferimento alla realizzazione oramai necessaria vista la grande affluenza e il grande sviluppo dell'area di una rotatoria su quest'ultima c'è un forte interesse per la realizzazione da parte dei titolari delle attività commerciali della zona e in particolare di tre di questi che finanzierebbero privatamente l'opera per la costruzione della rotatoria occorrono 45.000 euro che verrebbero investiti dai tre privati che credono molto nel progetto pare che non si possa dare inizio però ai lavori per mancanza di una convenzione da stipularsi tra il comune e i privati che è stata peraltro più volte sollecitata dalle ditte interessate si legge nella nota a firma del gruppo consigliare del PD di Modica all'indomani dell'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche recita il comunicato facciamo altresì presente che sin dai tempi dell'amministrazione Torchi la realizzazione e il completamento dell'asse viario del polo commerciale sono sempre stati in cima alla lista di detto piano e quindi non appare comprensibile l'inerzia dell'amministrazione rispetto a un'opera peraltro pagata dai privati segnaliamo sottolineano i componenti del gruppo del PD a Modica anche la poca lungimiranza di cui soffre questa amministrazione perché nel 2018 è presumibile che entrerà in funzione il tratto autostradale Rosolini-Modica con conseguente aumento del traffico automobilistico e trasporto merci sull'asse viario della strada statale 115 che attraversa il polo commerciale di questa inerzia conclude la nota a firma del PD di Modica ne pagheranno le conseguenze sia gli operatori commerciali della zona che i residenti ci fermiamo c'è la pubblicità tra poco rieccoci in studio sono le 14.39 parliamo dei festeggiamenti in onore di San Giorgio a Ragusa Ibla la festa ha visto la presenza di migliaia di persone che hanno assistito allo spettacolare gioco di fuochi d'artificio e al videomapping sentiamo la festa di San Giorgio a Ragusa va in archivio con boom di presenze una manifestazione che ogni anno raccoglie migliaia di persone in piazza Duomo al quartiere di Ibla un evento di fede e folclore che ogni anno fa emozionare i partecipanti dopo l'apertura del portale della navata centrale subito dopo aver permesso alla folla di defluire al di fuori della chiesa è iniziata la preparazione per l'asciuta del simulacro una processione composta sobria interrotta dai primi botti sparati in cielo e dall'esplosione decoriandoli rigorosamente rossi da lì l'inizio del percorso verso i giardini blei dove c'è stato un particolarissimo ed apprezzato spettacolo di fuochi d'artificio poi la risalita verso i quartieri degli archi dove si trova la chiesa delle anime sante del furgatorio dove dopo la tradizionale salita delle scale da parte dei portatori con il simulacro del santo martire si sono tenuti i vespri un evento che anche quest'anno abbiamo proposto in diretta sulle nostre reti centralini intasati per la diretta trasmessa sul canale 11 del digitale terrestre 823 di sky e sul sito www.videomediterraneo.it tanti siciliani sparsi per l'Europa che hanno chiamato e salutato i loro parenti l'evento condotto da salvo la rosa viviana san mito marco scavino ha raccontato tutte le fasi della festa grande attenzione posta allo spettacolo di lucia sardo e alla preghiera recitata dall'attrice all'arrivo del simulacro in piazza Duomo subito dopo il messaggio di Don Pietro Floride è iniziato il suggestivo videomapping sulla facciata del Duomo una volta terminata la proiezione è stata la volta dell'atteso spettacolo piro musicale dove i fuochi sono stati fatti esplodere al ritmo di musica terminate queste iniziative la statua del padrono è stata riportata all'interno del Duomo una volta riposto all'interno si sancisce la fine dei tre giorni di festeggiamenti ma allo stesso tempo si lancia l'appuntamento per l'anno prossimo con una nuova entusiasmante edizione di San Giorgio Ragusa Ibla c'è attesa nel pomeriggio per il premio Penalty Awards ovvero il riconoscimento ufficiale da parte degli addetti ai lavori di atleti tecnici e dirigenti del calcio dilettantistico siciliano che si sono particolarmente distinti nella stagione in corso per la terza edizione sono stati inseriti anche i riconoscimenti al futsal siciliano considerato che quest'anno il format Penalty ha visto la nascita della trasmissione Penalty Futsal dedicata al calcio a 5 regionale saranno inoltre premiati con riconoscimenti speciali così come la scorsa stagione personaggi del mondo dello sport del giornalismo e della televisione la premiazione avverrà oggi pomeriggio alle 18 presso il centro commerciale Legginestre di Tremestiere e Tineo a Catania alla presenza dei vari delegati sportivi della FIGC ed IAC l'evento andrà in onda su video mediterraneo canale 11 del digitale terrestre e canale 823 Sicilia Sat della piattaforma Sky domenica prossima cioè domenica 12 giugno alle 19 concludiamo con una notizia che è dedicata al basket da domani fino a sabato prossimo la Passalacqua ospiterà uno stage per 9 ragazze under 18 provenienti da tutta Italia che si alleneranno al Palaminardi di Ragusa mattina e pomeriggio agli ordini dello staff tecnico diretto dal coach Gianni Lambruschi le ragazze tra cui figura anche qualche atleta di interesse nazionale avranno modo di confrontarsi con la realtà ragusana e con le professionalità della Virtus e Irene insieme alle 9 ragazze si allenerà anche il gruppo delle Under 18 della Passalacqua per un totale di circa 20 atlete che per 5 giorni suderanno nell'impianto di Contrada Selvaggio il primo allenamento è in programma domani pomeriggio alle 17.30 dunque al Palaminardi di Ragusa non ci sono ulteriori aggiornamenti l'edizione di MTG termina qui vi ricordo che ritorneremo alle 19.45 studio Marco Scavino grazie buon pomeriggio grazie a tutti grazie a tutti